benvenuti al mio canale dove mostro principalmente esperimenti ed elettronica e informatica in particolare esperimenti semplici e facilmente replicabili con piccoli budget parecchi mesi fa ho pubblicato un video dove ho provato a velocizzare al massimo lo sketch blink per vedere quanti impulsi al secondo può generare un semplice arduino per fare quel video però mi serviva poter misurare frequenze fino ad alcuni megahertz è chiaro che un arduino fa fatica a misurare un suo simile quando viene fatto lavorare al massimo delle prestazioni contare gli impulsi e mostrarli è più impegnativo rispetto al semplice cambiare il livello logico di un pin digitale avevo quindi due possibilità acquistare o farmi prestare un frequenzimetro professionale oppure semplificare il conteggio da parte di arduino aggiungendo uno o due contatori integrati ttl che dividono di 10 o 100 volte gli impulsi ma entrambe queste soluzioni non sarebbero praticabili facilmente per un principiante che avesse voluto rifare questo esperimento da solo fortunatamente a dicembre 2022 ho trovato un frequenzimetro da 0 a 50 megahertz a poco più di 10 euro su ebay in quel periodo lo si poteva trovare da pochissimi altri venditori il prezzo mi è sembrato molto buono circa una settimana per la spedizione ma purtroppo scarsissima documentazione per cui ho dovuto fare un atto di fiducia è arrivato in kit da assemblare 5 display a 7 segmenti un microcontrollore PIC un po' di resistenze condensatori e diodi un quarzo e dei connettori l'assemblaggio è stato facile e onestamente non ho fatto nessuna regolazione l'ho usato nell'esperimento dello sketch blink non ho avuto modo di verificare le misurazioni ma alle basse frequenze i valori che venivano mostrati mi sono sembrati molto verosimili per cui ho proseguito con gli esperimenti e registrato il video in seguito questo circuito mi è tornato utile anche per alcune verifiche durante la preparazione degli esperimenti con lo Z80 specialmente con le prime prove di costruzione del generatore di clock quarzato dopo svariati mesi nell'autunno 2023 ho visto che il prezzo è più che dimezzato ed è diventato parecchio facile trovarlo tra i venditori di materiale elettronico specie tra quelli più usati dagli appassionati con budget limitato ovvero Amazon, Ebay e soprattutto Aliexpress e facendo ulteriori indagini sono anche riuscito a trovare un po' di documentazione cercando per bene in internet si trovano dei progetti pubblicati tra il 2004 e il 2006 basati sul microcontrollore PIC Arduino è stato inventato nel 2005 rendendo molto più facile la programmazione dei microcontrollori Atmega328 ma in quegli anni molti progettiri erano già disponibili con altri microcontrollori e le pagine come quelle di Tomasella su Altervista lo possono testimoniare sembra che questo sito non sia più aggiornato dal 2009 ma il progetto del frequenzimetro somiglia molto a questo in questo sito c'è una bella descrizione del progetto in lingua italiana del funzionamento di questo frequenzimetro compreso il codice sorgente e lo schema del circuito stampato tra l'altro nelle ultime versioni del software sviluppato viene usato lo stesso microcontrollore del frequenzimetro facilmente acquistabile oggi ovvero il PIC 16F628 ma non è il solo sito che sono riuscito a trovare infatti ho trovato anche il sito web di un radioamatore tedesco chiamato Wolfgang non la nomino per intero perché non so come si pronunci e faccio già troppe brutte figure ma lo si può ben vedere alla fine della pagina web principale insieme al suo nominativo di radioamatore in questo sito ci sono vari progetti di elettronica e informatica tra i quali anche il frequenzimetro basato sul PIC 16F628 dove al posto del display a cristalli liquidi vengono usati dei moduli a set segmenti basati su LED sembra proprio quello del kit in vendita ma lo scopriremo tra poco in questa pagina ci sono tantissime informazioni tecniche e spiegazioni sulla costruzione e sul funzionamento del suo frequenzimetro e finalmente in questa pagina web ho trovato informazioni riguardanti questo misterioso pulsante si può infatti aggiungere o togliere un valore fisso alla frequenza misurata o annullare questa funzionalità tramite delle pressioni veloci di questo pulsante si seleziona la funzione desiderata e mantenendo premuto questo pulsante un po' più a lungo si attiva la funzionalità selezionata mi è capitato infatti che per alcune settimane il frequenzimetro non ha funzionato e ho temuto che si fosse rotto ma poi ho capito grazie a questo sito che bastava solo azzerare la programmazione sembra che questo progetto abbia continuato a svilupparsi infatti ci sono delle notizie di ulteriori sviluppi anche nel 2022 e alla fine della pagina ci sono delle note a proposito di cloni anonimi di questo frequenzimetro disponibili su ebay ma anche su aliexpress fin dal 2016 viene chiarito che Wolfgang non è coinvolto nella realizzazione di questi progetti per cui chiede di non contattarlo per possibili problemi con questi kit che non ha realizzato lui nella realizzazione di questi kit infatti potrebbero esserci dei microcontrollori programmati male ma il problema più grosso è che il pin del contatore di frequenza viene direttamente collegato all'ingresso del segnale da misurare e se questo segnale supera il positivo di alimentazione o scende al di sotto della massa si rischia di danneggiare il microcontrollore inoltre il conteggio viene fatto se la tensione elettrica varia in maniera sufficiente a rilevare un cambio di livello logico quindi se non si sta misurando l'uscita di un segnale TTL potrebbe essere necessario aggiungere un circuito di preamplificazione il kit che si trova in vendita sembra provenire quindi proprio da questo progetto e grazie a queste spiegazioni risulta chiaro che lo si può tranquillamente usare per misurare la frequenza generata da un pin di Arduino come anche misurare il clock usato da un microprocessore come lo Z80 ma per altri utilizzi potrebbe essere necessario aggiungere un circuito di preamplificazione o di limitazione della tensione del segnale di ingresso il kit comprende un circuito stampato di circa 8 cm di larghezza per poco più di 5 di altezza 5 display a 7 segmenti il microcontrollore PIC resistenze, condensatori e altri componenti nel circuito stampato sono scritti i valori corretti dei vari componenti quindi è facile individuare la loro giusta posizione ho saldato poi una striscia di 4 pin femmina in modo da poterlo usare con i comuni ponticelli per gli esperimenti su breadboard e quindi usare 3 fili massa, positivo di alimentazione a 5 volt e il segnale da misurare l'uso di questo frequenzimetro è molto semplice si alimenta a 5 volt e si collega il segnale da misurare alcuni anni fa avevo costruito una coppia di oscillatori usando una scheda 1000 fori e un paio di integrati NE555 che generano dei segnali a onda quadra a frequenza regolabile tramite dei potenziometri collegando il frequenzimetro all'oscillatore di destra a bassa velocità il frequenzimetro alterna il valore 0 al millesimo di kilohertz girando il potenziometro la frequenza aumenta e il frequenzimetro aggiorna il valore ben presto però il lampeggio del led non si distingue più e quindi occorre fidarci del valore massimo misurato di 116 hertz il punto decimale lampeggiante indica che la misura è fatta in kilohertz mentre se il punto decimale è acceso fisso la misura è in megahertz con l'oscillatore di sinistra il funzionamento è simile si parte da pochi hertz ma questo oscillatore riesce ad arrivare a 228 hertz è giusto così perché resistenza ai condensatori connessi ai due integrati NE555 hanno valori diversi misurando la velocità del generatore di clock dello Z80 realizzato col microcontrollore a titaini vediamo che il frequenzimetro non riesce a misurare il mezzo hertz però appena aumentiamo la velocità del clock viene misurata una frequenza di circa 4-5 hertz poi 42 hertz e infine 34,5 kilohertz quando il potenziometro di regolazione viene ruotato fino all'estremità relativa alla massima velocità usando il quarzo come generatore di clock misuriamo 7,3730 megahertz con un quarzo da 3,3728 megahertz ovvero un errore inferiore all'1 per 1000 accettabilissimo visto il costo di questo frequenzimetro è comunque utile per verificare il funzionamento corretto dell'oscillatore chiaro che un professionista non può stare senza un frequenzimetro professionale che spesso comprende anche un generatore di segnale nello stesso apparecchio come sempre se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su condividetelo e iscrivetevi al canale e se avete dubbi o suggerimenti iscrivetevi nei commenti grazie per la visione al prossimo video ciao a tutti